12 mesi fa Chiara Pendino veniva eletta sindaco di Torino e nel suo discorso di insediamento parlava di una nuova città, di una nuova welfare, una politica per le periferie, una politica che tutelava l'ambiente e le persone più disagiate. Dopo 12 mesi sappiamo che quel discorso non è mai stato preso veramente sul serio neanche da chi l'ha pronunciato perché oggi Torino è una città più povera, più insicura, dove le periferie sono state veramente abbandonate e dove la figura internazionale brutta che abbiamo fatto il 3 giugno l'ha resa sicuramente non più prestigiosa come avveniva in passato. In pochi mesi sono stati cancellati 23 anni di buon governo fatto e le raggiunte di centro-sinistra. Con il bilancio approvato dal Movimento 5 Stelle è peggiorata la qualità della vita e sono aumentate le tasse per i cittadini. La città è stata svenduta con la liquidazione dell'acqua pubblica e con concessione edilizie che porteranno 140.000 metri quadri di nuovi centri commerciali. Il costo della sosta auto per chi lavora ed abita in città raddoppiato, le tariffe agevolate per i fiuti cancellate. Sono state tagliate le risorse per settori chiavi come la cultura e il turismo. Il Movimento 5 Stelle per far quadrare il bilancio ha manipolato le entrate inserendo voci sovrastimate o non certificate. Anche il welfare è stato pesantemente ridimensionato a partire dalla riduzione delle risorse alle scuole materne con disagi e spese per tutte le famiglie. Nonostante i 18 milioni di euro destinate a Torino dal governo nazionale, da mesi i comitati di quartiere denunciano l'abbandono delle periferie. Meno verde pubblico, più sporcizia, degrado e illegalità. La tensione sociale è altissima. Dopo le promesse ristorali ed i gravi episodi di violenza, le palazzine Exmoi sono ancora stabilmente occupate. Il censimento degli immigrati è stato un flop e l'evacuazione rimandata a fine 2018. Nessuna politica sui campi rom, i cui fumi tossici, stanno diventando un serio problema anche per la salute e per l'ambiente, mentre la sindaca perde tempo e cresce la rabbia dei cittadini. Dopo la finale di Champions League, la nostra città ha più paura. L'incapacità della sindaca nell'organizzazione dell'evento ha causato 1.500 feriti e purtroppo un morto, oltre alla sensazione diffusa dei torinesi di non essere protetti dalle istituzioni. L'ordinanza antibottiglie, emanata in tutta fretta dopo la terribile serata di Piazza San Carlo, è controproducente. Pochi controlli penalizzano di fatto i commercianti onesti ed incoraggiano i venditori abusivi. Le immagini riferiti del 3 giugno hanno fatto il giro del mondo. Torino è l'unica città dove si muore per un falso allarme e ancora oggi la sindaca non ci ha spiegato il perché. Torino in questi mesi ha perso numerosi grandi eventi, che avrebbero portato migliaia di visitatori, come la Mossa di Manet, Cioccolatò, la Festa delle Guide in Only Planet o Street Food Around the World. La pessima gestione del panino libero nelle scuole ha portato a una riduzione di introiti, pari a 3 milioni di euro, il rischio di esuberi per la società patratrice del servizio mensa, disagi a bambini e famiglie. Nonostante la pericolosissima epidemia di morbillo che sta colpendo Torino e il Piemonte, continua l'irresponsabile ambiguità e la disinformazione della giunta del Movimento 5 Stelle sui vaccini. I disastri sono evidenti. Torino non merita una sindaca così. Torino merita una buona politica. Noi, che amiamo Torino, la sappiamo a far rinascere.